Giustin Wine è un'azienda vitivinicola che si trova a Nervesa della Battaglia, nel provincio di Treviso, più precisamente nel territorio dell'asolo prosecco superiore. È un'azienda che ha circa sui 100 ettri di vignetto e produce sui 650.000 bottigliani di prosecco e anche di vini rossi importanti del territorio. La cantina è stata ultimata nel 2020, è partito tutto da un'idea del signore Menegildo Giusti, titolare dell'azienda Giusti Wine. La sua idea era di fare una cantina che fosse all'avanguardia, ma anche nel pieno rispetto con i territori circostanti e di conseguenza con la natura. Infatti l'idea era quella di fare una cantina che avesse un impatto ambientale quasi a zero e quindi abbiamo optato per questa opzione insieme all'architetto Guizzo Armando di fare una cantina ipogea. Questa vuol dire una cantina che è praticamente coperta dal vigneto e scende per più o meno 8 metri sotto il livello di terra. Quindi non si vedono serbatoi, non si vedono attrezzature esterne, ma si vede assolutamente la natura. La cantina ci dà la possibilità di conferire l'uva, di vinificarla e di portarla al processo finale per la sfumizzazione o la chiarifica o la preparazione finale dei vini bianchi e rossi e poi per l'imbuttellamento. Quindi ci dà una cantina autosufficiente. La cantina inoltre è molto spaziosa per accogliere molti nostri clienti sia italiani che estri e offre una sala degustazione che dà su tutto il vigneto e sulle colline Montello, in particolare l'Abbazia del Santo Stacchio. Quindi durante questa degustazione ci si sente proprio immersi nella natura. E in più abbiamo una terrazza di bel vedere, possiamo dire, che sovrasta la cantina e si riesce a vedere tutto il territorio circostante, sia della colina che anche della pianura. Quindi una visione a 360 gradi del territorio. L'impianto di climatizzazione installato in questa cantina è basato su due unità, una da 350 kilowatt che produce soluzione refrigerata a temperatura positiva e una da 150 kilowatt che produce soluzione refrigerata a temperatura negativa. Entrambe sono prodotte da Mitsubishi Electric e il sistema di refrigerazione produce, accumula e distribuisce la soluzione a circa 80 punti termoregolati e al sistema di condizionamento degli uffici e della sala di immagazzinamento del prodotto. Di anno in anno l'anticipo della data della vendemmia e il fatto che questa avviene durante giornate particolarmente calde rende il lavoro all'interno della cantina più complesso e rischia di compromettere la qualità del prodotto finale. In questo senso un sistema altamente automatizzato e molto efficiente consente di trattare la ricezione uva e il trattamento del mosto anche in condizioni che non sono quelle storicamente presenti in cantina e pertanto si riesce a mantenere il livello qualitativo atteso. L'altro aspetto invece è strettamente connesso all'efficienza energetica. Tutte le industrie chiaramente si concentrano sulla qualità del prodotto finale ma al tempo stesso migliorano i propri processi produttivi e introducono tecnologie per avere una produzione sempre più sostenibile dal punto di vista economica. La produzione del vino non è da meno, anzi alcuni step di processo che sono particolarmente energivori e quindi avere un sistema di termoregolazione e refrigerazione di ultima generazione altamente performante e importante.